Espropi sulle sponde del fiume Tusciano scoppia la rabbia dei proprietari. L'acquirente che espropia i suoli per poche decine di migliaia di euro è il comune di Battipaglia. I privati non ci stanno ma da palazzo di città non viene cambiato niente. Gli espropi sono per i lavori dei ponti di via Clarizia nel cuore del rione Stelle e quello di via del Centenario alle porte del quartiere Serroni. I due attraversamenti sono al centro di lavori per mitigare il rischio idrogeologico visto che le aree sono ad alto elevato rischio di inondazione. In particolare ci sono due punti critici individuati dal piano per l'assetto idrogeologico. Così è arrivata il via libera delle due opere pubbliche finanziate nel 2012 con una delibera del Cipe. I fondi sono 2,4 milioni di euro, cifra che include ogni spesa necessaria, inclusa quella per gli espropi delle aree attigue al fiume che il comune ha acquisito per poter allargare la sezione idraulica, ma secondo i proprietari le somme per gli espropi da parte dell'ente sono esigue.